ragazzi passate buone vacanze sto dimenticando qualcosa professoressa i compiti delle vacanze che cosa secchia? beh niente secchia riaughera buone vacanze oh giusto gli esercizi segnatevi i compiti delle vacanze secchia tu non arrivi all'inizio delle vacanze sappilo aspetta prima che vi inizi non dimenticarti di iscriverti per far parte della nostra grande famiglia e per vedere tutti i miei nuovi video forza anche quelli vecchi comunque ciao ragazzi devo raccogliere i soldi per il regalo della prof e poi anche i soldi per la cena di classe di stasera io li dimenticate a casa? ottimo anche io non mi stupisce vabbè allora cosa le regaliamo? un portafoglio una borsa una crema antirughe non mi aiuti e la cena dove la facciamo? facciamo una classica pizzata così siamo tutti a posto? ma no facciamo sempre le stesse cose e allora consigliatemi qualcosa? sushi? a me non piace messicano? non piace a me un olio can eat di qualsiasi cosa così ognuno può prendere quello che vuole e non spegniamo tanto? è un'ottima idea è una pessima idea dobbiamo mangiare tutti quanti simile e costoso su questo sono d'accordo allora tailandese? non mi piace cinese? no sentite sapete che c'è? va a culo stasera mangiate tutti a casa vostra scusa mi lasci una firma per l'annuario? eh eh mi lasci una firma per l'annuario per favore? tieni vuoi che ti firmi il tuo? non me ne fremo un c***o ok billy puoi firmarmi l'annuario? eh non so scrivere aspetta una cosa la so scrivere se vuoi te lo firmo io grazie cara becky sei una preziosissima amica grazie di tutti quanti questi anni bellissimi passati insieme non mi dimenticherò mai di tutte quante le risate che mi hai fatto male fa fa fare quella roba sei un'amica speciale preziosa ti voglio un mondo oh oh scrivo anch'io culo culo? si culo cioè culo è la tua dedica è l'unica parola che so scrivere oh che cosa carina uè ragazzi è l'ultimo giorno di scuola e si fa festa ho portato le casse, la palla da disco, le bevande, il cibo, si fa festa billy domani è l'ultimo giorno di scuola oh eh allora festeggiamo il penultimo giorno di scuola seee guardate come tuerco facciamo il gioco della bottiglia ok billy, no tu non partecipi yeah billy no non festeggiamo il penultimo giorno di scuola è cringe oh vabbè allora posso lasciare qui le cose per domani mancano tre ore alla fine della scuola oh 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 due ore e cinquanta alla fine della scuola raga 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 mancano due ore e mezza alla fine della scuola mille, 999, 948, 997 siamo a più della metà 996, 995, 994 siamo più vicini alle vacanze rispetto all'orario in cui siamo arrivati oggi a scuola 993, 992, 991 mancano due ore eee basta abbiamo capito oh oh dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno tre, due, uno tre, due, uno sì ma che cazzo ragazzi ho portato tutto le bevande, le patatine, i toglioli, i piatti voi avete portato cosa? dovevate portare? cosa dovevamo portare? avete portato i bicchieri? eeeh eeeh avevo chiesto una cosa una dovevate portare i bicchieri io ho portato praticamente mezza casa sono venuto a venire in macchina con i furgoni della spesa praticamente voi non siete riuscite a portare dei bicchieri di plastica io ho portato i toglioli quelli sono i tuoi fazzoletti sporchi di mocio cretino no dai non tutti c'è ancora qualche angolo utilizzabile aaaaaa ragazzi ecco la lista di cose da fare per quest'estate al mattino qualche volta andate a camminare sulla riva del mare in totale solitudine guardate come vi si riflette il sole e pensando alle cose che amate più nella vita sentitevi felici cercate di usare tutti i nuovi termini imparati insieme quest'anno più cose potete dire più cose potete pensare e più cose potete pensare più siete liberi leggete quanto più potete ma non perché dovete leggete perché l'estate vi ispira avventure e sogni e leggendo vi sentite simili a rondini in volo leggete perché è la miglior forma di rivolta che avete vabbè sostanzialmente non dobbiamo fare un fico secco grande prof compiti delle vacanze 7 libri di geografia 8 libri di storia fatemi 18 temi 3000 esercizi di matematica e 412 di fisica poi fate francesi inglese e cinese ma basta ma queste non sono vacanze sono un inferno ragazzi ecco le cose da fare per quest'estate divertitevi ballate amate siate felici e fatemi le 7 versioni leggetemi 7 libri rispondete agli esercizi e si ma dai ragazzi mi mancherete sono stati anni indimenticabili che non dimenticherò mai guarda che siamo ancora in quarta non in quinta ah vi devo ancora vedere per un anno no 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 fate finta che non ve l'abbia detto allora quest'anno vado in vacanza alle Hawaii alle Maldive alle Bahama al serio di genero e tu? al Rio dai casa di mi nonna quest'anno vado in vacanza al mare alle Maldive in montagna in spiaggia su The Sims mi ha mollata ha detto che si voleva prendere una pausa oh ma ti svegli quello ti ha detto che vuole una pausa perché in estate vuole divertirsi e farsene tutte poi a settembre tornerà e dirà scusa sono cambiato ci ho ripensato sono diverso adesso ma fidati amica mia che tu hai le corna da cervo ma non il cervello normale ma quello di Pokémon X e Y con i fiori cioè sei così cornuda che ti sono cresciuti i fiori sulle corna ti rendi conto ti svegli ma no lui non è così ma sì che così siamo tutti uguali oh ma ti svegli e questa è più stupida di me ma guarda te ciao ragazzi io sono Leonore questo era Tipi di persone all'ultimo giorno di scuola c'è un moscerino che sta volando davanti alla luce e spero si fulmini in un secondo comunque se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace di iscrivervi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo video ciao comunque taglio dei capelli a caso mi piacciono? iscrivervi al canale